buonasera a tutti voglio solo brevemente fare un ringraziamento innanzitutto alla città di piacenza qui c'è il gonfalone decorato di medaglia d'oro so che oggi c'è anche la ricorrenza del 9 settembre del 43 quindi il mio pensiero va a chi ha dato la vita per la resistenza per un'italia libera la sindaca avvocato barbieri ha detto tantissimo ovviamente tutto quello che ha detto va a sistema italia alle forze armate a tutti quelli che hanno operato sul campo dalla mia ci ha messo di tutto dalla parte organizzativa lavorando in sinergia col capo di stato maggiore dell'esercito e della difesa col comando operativo di vertice inter forze chiaramente noi ci prepariamo per ogni evenienza e poi abbiamo dovuto cercare di correre ai pari per questa sfida incredibile di questo virus che ha ammietuto 130 mila vittime più tanta gente porta le sofferenze dei propri cari tanti ammalati tanti che ancora portano i segni di quello che è chiamato il lungo covid del long covid a loro va il mio pensiero ringrazio davvero la piacenza tutti coloro i quali sono qua grazie all'orchestra al coro alla male alla maestra patrizia benelic per aver iniziato con il canto degli italiani che ogni volta credo a tutti noi da tante suggestioni ci fa sentire parte di una comunità la sindaca ha ripercorso tutti i passaggi ovviamente saluto tutte le autorità tutti gli intervenuti su eccellenza il vescovo cevoletto tutti coloro i quali sono qui questa sera dicevo la sindaca barbiere ha ripercorso un po quello che è avvenuto dal 2020 ad oggi nel primo pomeriggio insieme al presidente bonaccini e alla sindaca siamo stati all'ospedale di piacenza ho avuto l'onore e il piacere di visitare i padiglioni di terapia intensiva di vedere purtroppo ancora tante sofferenze questa volta non legate al covid ma sempre sofferenze sono e ho avuto modo di parlare al personale sanitario è stata una bella esperienza anche questa carica di emotività vedere donne uomini che stanno dando hanno dato danno tutto se stessi per per la collettività e quindi tutti dobbiamo fare la nostra parte questo questi premi vanno alla squadra alla squadra esercito alla difesa alla struttura commissariale in questo momento ci sono uomini e donne a roma della struttura che stanno lavorando per preparare organizzativamente i sistemi informatici e la macchina logistica per quella che sarà prossimamente per il procedo della campagna e per quello che sarà il richiamo la terza dose per chi la dovrà fare per cui noi ci siamo sempre questo è il motto dell'esercito piacenza ha un sistema che funziona ha ideato delle innovazioni come le usca che hanno il compito di andare a intercettare i più fragili coloro i quali vivono distanti dai dal centro che non possono venire negli di abbo che sono lontani dai propri medici di medicina generale perché questo virus si vince anche grazie a una diagnosi precoce a una cura veloce quindi questo è il passaggio e l'altro è il vaccino quindi mi permetto di fare ancora un appello a coloro i quali sono esitanti il vaccino è importante per riappropriarci del nostro futuro e come ha detto il presidente Sergio Mattarella è un dovere morale e civico io vi ringrazio e adesso godiamoci questa bella serata grazie ancora per l'onore che avete tributato agli uomini e donne delle forze armate grazie signor generale per le sue parole grazie per il lavoro per il lavoro che con i suoi uomini e le sue donne sta facendo per il nostro paese il premio rappresenta una statua emblematica della nostra città del nostro territorio è un grande generale il più grande dell'epoca si tratta di alessandro farnese che noi vediamo riprodotto in una meravigliosa statua barocca nella nostra piazza dei cavalli per l'appunto ma questa sera appunto insieme al piacenza ensamble 2021 insieme al nostro coro del teatro municipale di piacenza vogliamo proprio omaggiare l'esercito italiano omaggiare tutti coloro che sono in prima linea di fronte a questo durissimo momento con la cultura con l'arte con il bello con il bel canto e non possiamo che farlo con un piacentino in lustre perché a piacenza ha passato buona parte della sua vita piacenza ha svolto buona parte del suo lavoro parliamo di giuseppe verdi di giuseppe verdi insieme al maestro bernelic sentiremo dal nabucco gli arredi festivi e dalla ida gloria all'egitto grazie Grazie.